La diplomazia è in moto dopo il sede separatisti pro-Russia all'accordo sul cessato e il fuoco proposto da Kiev. Una maratona di due giorni che vedrà impegnati NATO, OXI e Unione Europea e Russia alla ricerca di un compromesso sul piano di pace presentato da Poroshenko. Il piano di pace di Poroshenko non ci interessa. Non ne condividiamo i punti. Il governo ucraino non deborrà le armi, neanche dopo la fine dei negoziati. Il piano di cui si parla e che è stato proposto non è stato discusso con nessuno. A Lugansk, nell'est del paese dove si è combattuto pesantemente nelle ultime settimane, regna in queste ore una calma irreale. Crediamo che il piano di pace sia positivo. I civili, le donne e i bambini non saranno più considerati obiettivi. Le forze ucraine però non hanno smesso di combattere. Noi saremo sempre a favore di una soluzione pacifica. Grazie a cessate il fuoco tutto è più nuovo calmo. La gente è tornata nelle strade. Abbiamo ricominciato a non preoccuparci di quello che ci circonda, essere di nuovo tranquilli. Dopo mesi di battaglia, il 20 giugno il neopresidente ucraino Poroschenko ha presentato un piano di pace in 15 punti. Tra questi l'amnistia per i separatisti che non si sono macchiati di reati gravi e il decentramento del potere.